Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. Vittali, buon accompagnamento difensivo per Veneta, qualche difficoltà infatti per Walsh che non riesce a prendere la linea di fondo. Lo scarico per la tripla segna di Ware all'interno di 24 secondi. Sì, decisamente mancato, è l'ottavo punto dell'ex Arellino. EIS! Lo schiacciore trova una linea di fondo monumentale, Germis EIS. Non è che Foggio fa con il trunometro, dobbiamo andare a cattivo veloce. Jason Johnson va a piantare la schiacciata. Il vantaggio è di 6 punti, 45-39. Vigino dorsale, i game ball, vinta il pallone, James! Si arrampica quasi sull'avversario e schiaccia! Musso che ti prova da 3 punti, no! Incredibile, incredibile! Musso di mettersi proprio, di appoggiare poi per Otello Hunter, stoppato da Marco Cusin. E poi c'è il pallo di Otello Hunter. Musso di mettersi proprio, di appoggiare poi per Otello Hunter, stoppato da Marco Cusin. Musso di mettersi proprio, di appoggiare poi per Otello Hunter. 10 secondi, penetrazione di in, scoppata, palla di Marcus Green, 5 secondi, 4 secondi, Drake da 3, e realizza, ancora, il sigillo di Van Drake, al secondo, dalla fine, 78 a 65. Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beco.